ciao a tutti ragazzi allora oggi entriamo a vedere un effetto di michael maxwell si rifà su un principio che già abbiamo presentato in questo canale ma sappiamo benissimo che una volta assimilato un principio lo si può usare in tutti i modi possibili andiamo a vedere la performance allora mazzo di carte che lo spettatore dovrà gestire nel senso che lo spettatore dovrà mettere le carte sul tavolo quando vuole si ferma dovrà guardare la carta e quindi riposare tutto e posare il mazzo questo è quello che dovrà fare lo spettatore molto semplicemente all'interno di questo mazzo ora daremo un'ultima mescolata lo spettatore comincerà a mettere le carte sul tavolo quando vuole si ferma mettiamo caso si fermi qui dovrà guardarsi la carta io ora ve la mostro ma mi giro la riposerà sul mazzo e sopra queste butterà le carte che aveva messo sul tavolo ok quindi cosa faremo noi prendiamo il mazzo lo mescoliamo come giusto che sia ancora una volta è uno spettatore un secondo spettatore potrà pure tagliarlo e dobbiamo andare a trovare la carta selezionata un ardua impresa ma ci proviamo forse forse potrebbe essere questa anzi no facciamo una cosa la voglio trovare in una maniera diversa allora al mio 3 lo spettatore dovrà dire ad altavoce la carta selezionata al nostro ovviamente al nostro 3 ne vedo le carte 1 2 3 9 di cuori un'idea bizzarra ma facile da realizzare andiamo a studiarle insieme allora dobbiamo partire con un setup è normale come tutti gli effetti che sono diciamo al 90 per cento self working quindi dobbiamo prendere un seme per intero dall'asso al k 3 4 5 6 7 8 9 10 2 e asso ok quindi prendiamo un seme in questo caso cuori dall'asso al k in cima al mazzo e sopra questo mettiamo 3 e 2 5 5 carte qualsiasi ok ora cosa succede noi all'inizio simuliamo quello che dovrà fare lo spettatore quindi gli diremo di mettere le carte una alla volta sul tavolo quando vuole si ferma imponiamo le cinque carte qualsiasi dovrà guardarsi quindi facciamo proprio il gesto di far capire lo spettatore cosa deve fare la carta riposarla prendere da terra e chiudere tutto sul mazzo ora la nostra carta chiave sarà ovviamente l'asso di cuore che io lascio faccia in alto quindi una volta che abbiamo fatto la dimostrazione porteremo via le cinque carte magari con due meschiate così per dare un senso quasi di casualità ok quindi a questo punto lo spettatore inizierà a mettere le carte sul tavolo 1 2 3 quando ne vuole lui 4 5 quando vuole si ferma mettere a caso si fermi qui dovrà guardarsi la sua carta 10 di cuore mettiamola sopra e vada ben vada ben l'asso la nostra carta chiave si andrà a posizionare sul 10 di cuore quindi cosa succede che potremmo fare un miscuglio un refor shuffle e un secondo refor shuffle e uno spettatore potrà pure tagliare ora faccia noi apriremo il mazzo andando a individuare la carta selezionata che è la carta immediatamente dopo l'asso di cuore in questo caso l'abbiamo vicini vicine quindi immediatamente quella che segue l'asso di cuore quindi una volta che l'abbiamo individuata si sarebbe potuto trovare anche magari mettiamo caso una situazione del genere comunque sempre la prima carta di cuore che segue l'asso di cuore una volta individuata facciamo te che la vogliamo posare sul tavolo poi indecisi diciamo no anzi facciamo una cosa guarda al mio 3 lo spettatore dovrà dire il nome della sua carta cosa faremo spingiamo fuori in side jog la prima carta che quella scelta la feriamo fra il mignolo e l'anulare così da tenerla vengo qua vicino impegnata così questo è cosa ci permette che quando lasciamo cadere il mazzo e ritorniamo sopra un po' velocemente la carta si gira automaticamente oddio non è uscito però mi posso dire che riesce perché il fatto di tornare sopra la fa flippare ora la differenza da quello che abbiamo visto già nel nostro canale è che qua le carte vengono veramente all'inizio invertite mentre prendiamolo un attimo giusto per farvi capire la differenza tra quello che abbiamo visto perché sono sembrerebbe quasi tutto uguale ma in realtà non c'è uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci jack qk ok nel tutto nel tutorial che abbiamo visto nella nell'idea di benjamin il nell'intero procedimento alla fine lo spettatore doveva tirare fuori la sua carta e inserirla in un punto qualsiasi del mazzo ok qua questo noi non non si crea il problema perché una volta che noi invertiamo le carte lo spettatore le inverte nell'andarla a mettere sul tavolo e si ferma otto di cuori noi sappiamo che l'asso di cuori ci va sopra quindi abbiamo una carta chiavi cioè diciamo che la creazione del setup è a noi serve soltanto alla fine per cercare di individuare qual è la carta di cuori del nostro setup più vicina all'asso dopo aver mescolato infatti se noi andiamo a mescolare anche due volte l'asso di cuori vedete anche questa volta casualmente si trova prima della carta scelta e quindi per noi è molto più semplice individuarla la routine non è difficile anzi è semplicissima bello l'effetto finale del che di lanciare il mazzo e per capo oggi solo la carta scelta in contemporaneamente a quando il lo spettatore ne pronuncia il nome ma comunque poi il finale è ad libtum ragazzi cioè ricordiamoci sempre che gli artisti ci offrono l'idea e poi noi le sviluppiamo bene vogliamoci bene e alla prossima ciao